Quali azioni il governo italiano e le istituzioni italiane possono implementare in Italia ricevendo le normative e le direttive europee rispetto al contrasto contro la pedofilia e la pedopornografia L'importante cosa è precisamente che l'Italia ha già fatto un numero di committimenti internazionali e il committiment è molto serio perché è il risultato di un processo di ratificazione che è stato debattato in l'italiano parliamento. Ma con ogni legislazione ciò che importa è l'implementazione l'implementazione della Lanzarote-convenzione, l'implementazione della Cybercrime-convenzione significa che in primo momento è necessario che c'è una reale strategia che non c'è un approccio per l'implementazione della scuola di bambi. E' la prima cosa. La strategia nazionale ha implicazioni per la coordinazione di diverse governamenti istituzioni che deal con l'implementazione della scuola di bambi. perché se non è coordinato, non è probabilmente di produrre un effetto. Ma ovviamente non è solo una questione di cooperazione tra le instituzioni di bambi. ma è molto necessario che il governo abbia un dialogo con altri attori che sono le industrie privati, le operazioni turistiche, le servizio internazioni. Perché la maggior parte della scuola di bambi, come sappiamo, non solo nella scuola di bambi in casa dove il abuso si tratta, ma i effetti sono moltiplicati da mettere le immagini sulla internet. E questo causa un trauma addituale per le vittime, che è impossibile di stoppire se non abbiamo la cooperazione e la tecnica che Google e Microsoft possono aiutare. Questo è molto importante. Ma è anche necessario che i bambi, i bambi, i bambi, i bambi, i bambi. Se non potrebbe protegere. E questo è quello che credo è extremamente importante in termi di prevenzione. Cos'vi bambi, i 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 bambi. e rendere loro aware dei rischi dell'uso dell'internet non identificare loro, non dirle loro dove vivi e ovviamente ci sono necessità di dialogare tra i bambini e i bambini che i bambini non sono lasciati per loro che i bambini sappiamo che i bambini stanno facendo e possono anche dire che i bambini di stoppire se stanno involvendo in una vera vera. Abbiamo bisogno di lavorare sulla prevenzione dei potenti criminali dobbiamo permettere ai bambini che non hanno committato l'atto e che credono che c'è un impulso di committare i bambini che possono tornare a medici e psicologiche per evitare i bambini di diventare criminali perché i bambini, i bambini, i bambini, i bambini devono essere sentenati per avere una vera vera più specifica sentenza secondo cui i bambini che i bambini devono essere in un registro nazionale e questo registro devono essere accessibile perché se stiamo parlando di filtrare e screire i professionisti che sono in contatto con i bambini dovrebbero essere accessi questi registri e questo è un tema molto difficile perché rispondono problemi di vita privata ma quando parliamo di criminali e se il giudice ha imposto questa sanzione di essere registrata in un registro di pedophiles penso che siamo solidi questo è un tema molto importante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti